Sta bello Leandro, sta bello! Oh Leandro, ho fatto un regalo! Posso darti il regalo? Per non lo vedere! Scemo proprio! Cioè che ricicli i regali! Mi ha regalato lui ieri! Si ma gliel'ho regalato io a lui! Che non tenevamo la maglia come hai fatto tu! Fa una musica vicino a chi stucca la maglia! Sto è bello! Ragazzi che giorno è? È solo la vigilia di Natale! E ci stiamo andando ad allenare! Quindi 4 dicembre, 11 e 34! Lui è Mimmo Nappe! 19 anni! 16 anni, vegano! 16 anni, vegano celiaco! Arrivano una cosa esalti! Vuoi fare una gara più grave? No ma guidiamo così! Finisci te la Monster Team! Aiuto! E' finuto! Finisci te la Monster! Questo è il cucciolo! Ragazzi mio padre! E quello è il suo cane! Non voglio del padre! E' quello qua! Appena dico Mia subito! È gelosa! È gelosa però! Mia! Basta! Fortuna! Ma tu che allenamento fai oggi? Il tuo! Gambe! Noi tre invece facciamo lo stesso! ci facciamo, che facciamo Lea? Dorso, bicipiti e quadricipiti con due esercizi leg extension e h squat. Ragazzi i microfoni settati, non entra, non entra, non penso proprio Allora questa variante ce la facciamo a spalle sempre basse, quindi tieni le spalle basse Tu ti riscaldi col primo esercizio in ulti articolari della scheda, io mi manappe con un po' di mobility Ragazzi ecco qua il notaro che si appresta a fare il suo primo esercizio, riscaldamento pure a me, riscaldamento pure a lui, spiega come fai il riscaldamento, no ve lo spiego io. Sempre con il primo esercizio multi articolare della scheda, carico relativamente basso e gestibile, abbassa forte le scapole, bel focus sulla schiena e ci vado contro con i gomiti. E pensa a stare bello, quando sale stretch del dorso, con leggera cifosi, non stendo completamente i gomiti andando passivo, sempre leggermente piegati Boom! Un altro, un altro, un altro, un altro! Eh grazie, riscaldamento pure a te vieni! Boom! Eccoci qua ragazzi, prima serie allenante, parte il notaro come il pazzo! Ricordiamo che stiamo facendo una latta machine con le spalle sempre basse, prima di perdere le tensioni si inverte il movimento. Tocca a mimmo! Vai a mimmo! Vai mi scassi! Vai! Non lo perdere! Tienilo qua! Non lo perdere! Qua, qua, qua! Bravo! Vai! Spingi col mignore che è qua! Vai giù! Giù! Qua, qua, qua! Tienilo, non scappare! Quando stai giù tienilo! 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 Spalla bassa e tienilo! Qua, qua! Vai! Vai che è l'ultimo eh! Vai! Tienilo! 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 Buono! Ovviamente non ci focalizziamo sullo stretch, stiamo in tensione continua sulla parte basse del dorsale. Vi faccio proprio dare il ricarico per evitare traumi. Proviamo e vediamo che ce la facciamo! Metti le fascette! Preserviamoci! Quanto sono sette? Eh? Sì, sette! Ok, guardate qua come in tutto il movimento, non me la spotto! Il gomito sta sempre sotto l'asta per tutto il movimento, non perde mai focus sul dorsale! Sempre sul dorsale, vai! Sempre sul dorsale! Sempre sul dorsale! Sempre sul dorsale, ma non lo perdere! Buono, vai! Opposto! Ok, opposto! Dieggile! Dieggio! Facendo l'intenzione continua non sento tanto il fastidio! Ok? Ah ciao! Ok! Novanta! Aggiudicato! 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 Se non va a me cambia lì! Eh, sette! Sette! Occhio a non perdere le scapole! Forza! E andiamo! Uno! Vai! Su! Vai! 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 Non lo perdere! Vai! Vai! Non lo perdere! Come tu! Vai! Non lo perdere! Vai! Tienilo qua! Tienilo qua! Vai! Qua! Qua! Buona! Vai! Tienilo qua! Tienilo qua! Tienilo qua! Tienilo qua! Parti! Vai! Non tienila contrazione, spingi! Cosa, sai, sai! Guardate qui! Appena ci arrivi, dai da botta pesata! Ok! Capito! Due, vai! Vai, forte, 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 forte Vai! Ancora, vai! Ragazzi, non scendiamo troppo Non per sporcare il movimento Ma perché se scendessimo un pochino di più Tenderemo ad alzare la spalla Noi lavoriamo sempre con la spalla in sicurezza Solo nel rom attivo del gran dorsale Potremmo portarlo in massimo allungamento In un esercizio come questo Ma lo facciamo in altre sedute In cui alleniamo la schiena Quindi in questo esercizio Cioè in questa seduta di allenamento In questo esercizio Evitiamo il massimo stretch Anche perché le andro hanno un po' fastidio ai gomiti Portare al massimo stretch Non è il massimo per i muscoli del braccio Basta bene la spalla e spingi in basso Vai! Vai, vai! Vai! Aspetta fuori quando scendi, vai! Feed? Vai, Leandra Posso andare? Vai, va! Buono, buono, perfetto Metti la mano sulla spalla Uno sulla spalla Uno sul dorsale Tenigli tensione là sotto Più giù, vai! Più giù, più giù! Vai, Leandra Vai, spingi Spingi, Leandra Vai, va! Spingi, spingi Comito, comito, comito! Vai, non teni troppo la contrazione Ok Il tempo è in botta e salio Cioè contro e ritorno Ok Vuoi fare una dedica a Rosario? Stai inguolato a Rosario? C'è a peso Che sta addormendo a posti di adenarsi Dai, vai, petto fuori, forte Uh, penso che possiamo vederci al secondo esercizio Nuovo videogame, ragazzi Facciamo prima una serie per stickare il carico Con 65 Vediamo come andiamo È un 3x8 più the street Qui la cosa bella è andare col busto indietro Quando si scende In modo da stricciare bene il dorsale E aprire le scapole Ovviamente qui non si raggiunge il massimo allungamento È giusto una apertura scapolare Poi ce l'abbassiamo E spingiamo verso il basso Andando in avanti Uh Stendiamo col busto indietro in discesa Poi durante la salita Siamo obbligati ad andare avanti Non ci aiutiamo con altri muscoli della schiena Quindi io che mi stavo facendo lo shaker là È praticamente così Spalle dietro, busto in avanti Esatto, però devi finire con la spalla dietro rispetto al gomma Busto dietro quando scendi, avanti quando sali Ok, vediamo Quanti colpi? Eh, sono sette Sette? Sei 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 Belli controllati, capito? Va bene Sempre le fascette per ridurre Stai senza microfono Non è Quindi devi affettare le muscoli Eh, io sono andato giusto Però Eh, però Buono, ottimo Bravissimo Quel centimetro in avanti non ti fa fare i cicli Ottimo Buono Tienila sul dorsale, va Tutto sul dorsale, va Vai Tienila sul dorsale Ah, ma dopo la devo fare Ne ho fatte 10 Però sentivo che non ha Mi sono guardato perché Volevo vedere se andavo abbastanza dietro Dalla 10 Sì, sufficientemente Va bene con questo? Eh, sì Ne ho fatte 10 Furì, vado dietro di 6 Fatte belle lento Vado bene Vado, rallento l'esecuzione piuttosto come va Tu mi, se vuoi aumentare Questa è una salute Va Però occhio che in alcune si è andato così Capito? Vai Oh, ok Oh, ok lavano andiamo a notare a dare fastidio doc vogliamo far vedere un po di merce in questo video non faccio vedere pure il merchandising però non è mio usando il dorso in pampo no qua stai andando troppo dietro col gomito metti bene la spalla dietro bravo stai sul dorsale non lo perdere butta il busto in avanti dorsale, bravo è così quel centimetro di busto avanti ti cambia l'attivazione della schiena busto, bravo è questo centimetro facci, facci facci che te la cambia vai buona vai 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 stella 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 buona chiusi bene il scapolo e vai scapolo bravo ecco tra spalla dietro dietro buona vai 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 ci siamo papà qui guarda fai busto avanti quando bravo tenilo qua sotto busto dietro quando scende avanti con bravo busto dietro cosi non puoi andare dietro quando sai perfetto, tipo Carlo però spingi in basso più in basso possibile qua 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 spalla dietro, qua sotto qua sotto qua, tienilo vai, spalla avanti avvicinati col petto avvicinati, avvicinati avvicinati buono vai non l'ho contato nemmeno io lo andai lo andai stripping ok faccio una 70 come vuoi poi faccio 60 55 e vi manca se manca, se pure 2 o 3 è bello ma soprattutto se vai nello sfogliato di là dove ti facciate c'è la posing room c'è la posing room eh c'è la posing room chiede sale e ratti se no poi ti sa la portata avanti no no ma spai, si, si, si sta nel borsone è giusta la panza non c'è la portata lo tagliamo questa parte del video e lo andi tu avanti, 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 avanti avanti, avanti, avanti avanti, avanti uh, 60 ragazzi stripping senza riposo andiamo subito vai stendi, busto dietro sali, busto avanti vai tira tira la shash vai 55 fattano pure busto avanti vai ma distruggerò si tira qua dietro c'è un lago io infatti più bello tu capisci me lavo la mano vai devi chiudere devi chiudere devi chiudere vai chiudi bravissimo apri chiudi qua vai chiudi qua vai apri chiudi tienilo qua tienilo qua tienilo qua tende ancora a spingere il gomito verso fuori questo toglie focus al dorsale deve maturare il bimbo che mi fa regare deve maturare deve maturare però la scrittura spingi cazzo vai vai abbassiamo ragazzi il calico focus spalla dietro spalla dietro più dietro possibile busto avanti spalla dietro questo è il punto visto sopra questo va tutto dietro sopra qua va tutto dietro tutto dietro più dietro più dietro possibile bravo direlo così vai non pensare a busto pensa solo a portare la spalla dietro spalla dietro spalla più dietro possibile bravo altre tre Minimum. Spalla dietro, vieni dietro, vieni dietro, vieni dietro. Vai, dietro qua dietro. Vieni qua, dietro qua, dietro qua. Bravo, vai. Vai, spalla dietro dietro qua. Vai. Secondo strip, pure così, pure 2-3, pure busto avanti, spalla dietro. Vai. Aria. Placchino qua, bravo. Dai, la porta aerei devi diventare. Vai! Vai! Aria! Qua, qua, qua! Staci! Vai! Staci! 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 Ok, allunga bene! Fermi! Prendi Aria! E va!